L'aspetto speciale del ballet maschera è che Verdi si evolve nel linguaggio orchestrale. Basti pensare al preludio che inserisce per la prima volta nella sua vita gli armonici. Il tessuto orchestrale cambia, Verdi non usa più il materiale orchestrale per accompagnare i cantanti, sostenerli, ma per condividere con loro un'esperienza musicale importante. Usa il contrapunto durante la scena della congiura, i concertati sono articolati, l'aria di Emelia è un'aria con versi spezzati, ha un preludio lunghissimo, si potrebbe parlare di preludio sinfonico, si potrebbe forse quasi eseguire in concerto. Insomma l'opera ci fa intravedere il futuro compositore di Aida e dell'Otello. Diciamo che Verdi non si può classificare come un compositore univico, quando si parla di Verdi non si può mai dire Verdi è così. Da Stifelio in poi il linguaggio si evolve in modo straordinario ogni opera che lui componeva, per cui dagli anni 50 sino al Falstaff abbiamo a che fare con un compositore che si rinnova continuamente, sempre nuovo, sempre nuovo. Grazie. 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 Grazie.